Lui è Marcel, che si gode le feste con i suoi amici e li connette tutti, vicini e lontani, con la forza della fibra di Tim fino a 10 giga. E lei è Zoe, la piccola vicina di casa con la passione per i film, che farà cambiare il programma della serata. Scegli Tim per i tuoi regali, goditi le feste con la fibra di Tim e scopri Tim Vision Intrattenimento con Netflix e Disney Plus a 9,99 euro per i primi due mesi. Vieni nei negozi Tim. Tim, la forza delle connessioni. Grazie.